...questa prima martedìa dell'Ereferenza, 2000 mesi, 30 mesi... Cappana dal prossimo giro e vediamo gli ultimi due, basta, è un po' il gioco della sedia, basta ragazzi, adesso vediamo gli ultimi due, stai di attaccare. Cappana dal prossimo giro e vediamo gli ultimi due, basta, è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia. Non vi prendo mica, vedete stare... Adesso è un po' il gioco della sedia. Adesso è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia. Adesso è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia. Adesso è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia, basta, è un po' il gioco della sedia. Giorgia, per favore, grazie. Giorgia, Giorgia, neutralizzata in fila, Giorgia. Giorgia! 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 eso Grazie a tutti. 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 Numero... Numero... ... 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